Ogni giorno la scienza si spinge oltre i limiti di ieri nell'esplorazione dello spazio e potrebbe sembrare che le grandi menti della comunità scientifica abbiano ormai condotto studi esaustivi su oggetti come satelliti e pianeti più vicini a noi. Tuttavia, lo spazio che ospita il nostro sistema solare è davvero enorme e ci vorrà molto tempo per poter affermare di averlo indagato completamente. Ora vi invito a fare un viaggio nelle zone più remote del nostro sistema solare, ai suoi confini, per vedere qual è stata l'ultima cosa vista dalla sonda New Horizons su Caronte, la misteriosa luna di Plutone. Caronte è la luna più grande di Plutone, ormai è nota alla scienza da oltre 40 anni. Questo oggetto celeste è stato individuato il 22 giugno 1978 dall'astronomo americano James Christie. È stato visto per la prima volta nelle immagini fornite dall'osservatorio navale degli Stati Uniti. Inizialmente Caronte era stato definito come l'unica luna di Plutone. Tuttavia, secondo un'altra opinione che si diffuse in seguito, questi due oggetti celesti dovevano essere considerati come un sistema binario. Se a Caronte venisse attribuito lo status di pianeta nano, questo sarebbe effettivamente il punto definitivo per stabilire la natura dell'oggetto e per classificarlo. Attualmente non esiste una definizione univoca di questi oggetti nello spazio e Caronte è ancora classificato come luna di Plutone. Il diametro di Caronte misura 1212 chilometri. È circa la metà del diametro di Plutone e circa un terzo di quello della nostra luna. I due oggetti celesti si fronteggiano sempre con lo stesso lato. Per quanto possa sembrare bizzarro, se ci trovassimo sulla superficie di uno dei due oggetti, Caronte nel cielo di Plutone o Plutone nel cielo di Caronte, rimarrebbero nella stessa posizione senza spostarsi. Per questa proprietà entusiasmante, i due oggetti vengono spesso definiti un doppio pianeta nano. In realtà vale la pena ricordare che il baricentro del sistema non si trova all'interno di nessuno dei due oggetti. Per quanto riguarda il loro rapporto di massa, Caronte ha circa l'11,65% della massa di Plutone e, per quanto riguarda la distanza tra gli oggetti, essi distano 19570 chilometri l'uno dall'altro. Per fare un confronto, la distanza media tra la Terra e la Luna può raggiungere i 384.400 chilometri. Un'altra caratteristica interessante di questo sistema è stata notata nel periodo compreso tra il febbraio 1985 e l'ottobre 1990, quando gli scienziati hanno registrato in più occasioni un fenomeno estremamente raro. Si tratta di eclissi alternate di Plutone da parte di Caronte e viceversa. Poiché il periodo orbitale di Caronte dura meno di una settimana, si è osservato che le eclissi si verificano ogni tre giorni circa. Se confrontiamo l'aspetto dei due oggetti, Caronte è sensibilmente più scuro di Plutone a causa delle sue proprietà. Inoltre, i due oggetti differiscono molto nella loro composizione chimica. Per esempio, sulla superficie di Plutone c'è molto ghiaccio di azoto, mentre Caronte è ricoperto di ghiaccio d'acqua che non lo fa apparire così rossastro. Oggi si ritiene che il sistema Plutone-Caronte si sia formato a seguito di una collisione tra Plutone e Proto-Caronte, mentre i due si sono formati indipendentemente prima della collisione. Secondo alcuni modelli proposti, Caronte potrebbe essere geologicamente attivo e contenere del liquido sotto la sua superficie. Questa ipotesi si basa sulla presenza di idrati di ammoniaca rilevati dall'analisi spettrale dell'oggetto. Ci sono anche ipotesi che suggeriscono la presenza di criovulcanismo da registrare su Caronte. La maggior parte delle informazioni su questo oggetto celeste sono state raccolte grazie alla missione New Horizons, quando la sonda interplanetaria ha attraversato il sistema Plutone-Caronte il 14 luglio 2015. Nel corso della missione sono state ottenute immagini di Caronte da varie distanze, con la distanza minima dall'oggetto durante il flyby di circa 28.800 chilometri. La sonda è stata in grado di scattare fotografie del lato di Caronte visto al momento dell'afficinamento e anche di quello opposto. Sulla superficie di questa luna sono state individuate numerose caratteristiche. Una di queste è un'affascinante montagna in mezzo a un fossato e ad alcuni crateri, le cui immagini sono state scattate da New Horizons da una distanza di 79.000 chilometri. Inoltre, le foto rivelano che la superficie vanta un terreno vario. Per esempio, ci sono foto che mostrano catene montuose e avvallamenti che si estendono per un migliaio di chilometri. Devono essersi formati sotto l'influenza di alcuni processi interni a Caronte. Nell'angolo in alto a destra si vede un enorme canyon la cui profondità può raggiungere i 7-9 chilometri. Sorprendentemente, su Caronte non ci sono quasi crateri, il che potrebbe significare che la superficie di questa luna è geologicamente molto giovane. Un'altra caratteristica di Caronte è uno strato di polvere scura che ricopre il suo polo nord. Questa bizzarra regione è stata soprannominata Mortor. Con un diametro di circa 475 chilometri, si ritiene che quest'area scura si sia formata a causa dei drastici cali di temperatura che si verificano regolarmente sulla superficie di Caronte. Una delle ragioni potrebbe essere l'inverno polare di Caronte, che persiste per circa 100 anni. Durante questo periodo, la temperatura superficiale della luna scende a 258 gradi centigradi sotto lo zero. Con le molecole di metano e azoto catturate nell'atmosfera di Plutone che si congelano. Quando torna l'estate e la temperatura del polo nord scende fino a 213 gradi centigradi sotto zero, il metano e l'azoto evaporano e nella regione di Mordor rimangono solo i composti pesanti. Se esposti alle radiazioni ultraviolette, si trasformano in toline. Questo potrebbe essere il motivo per cui quest'area ha una tonalità scura. Oggi, tutti gli oggetti presenti sulla superficie di Caronte sono stati informalmente soprannominati con i nomi degli scrittori di fantascienza e fantasy e dei loro libri. Oltre a Caronte, Plutone ha altre quattro lune di cui siamo a conoscenza. I loro nomi sono Stix, Nyx, Kerberos e Hydra, e le loro orbite sono quasi circolari, seguendo la direzione di rotazione di Plutone. Mentre Plutone e Caronte ruotano in modo sincrono, si è notato che gli altri oggetti non lo fanno. Come di consueto, ecco un breve profilo di ciascuno di essi. Il raggio dell'orbita di Nyx è di 49.000 km, mentre quello di Hydra è di 65.000 km. Ciò li rende 2-3 volte più lontani da Plutone di quanto non lo sia Caronte. Le loro masse non sono ancora state stimate, ma la massa di entrambi gli oggetti è approssimativamente stimata allo 0,003% di quella di Caronte. Le altre due lune sono state scoperte nel giugno 2011 e nel luglio 2012, Kerberos e Stix. Nonostante le loro modeste dimensioni, la sonda New Horizons è riuscita a scattare qualche foto anche a loro. Dopo aver attraversato il sistema Plutone-Caronte e aver raccolto dati su tutte le lune di Plutone, la sonda spaziale ha proseguito il suo viaggio, e le ultime immagini di questi oggetti trasmessi alla Terra sono state le più nitide della giornata. Il 14 luglio 2015, la sonda ha scattato una delle ultime foto di qualità migliore di Caronte da una distanza di 74.176 km. In questa immagine si vedono molto chiaramente molte caratteristiche geologiche di questo oggetto. Oggi Caronte rimane un oggetto celeste ben lontano dall'essere esplorato a fondo. Tuttavia, grazie ai dati raccolti nel corso delle missioni compiute, siamo in grado di formulare ipotesi fondate sulla sua natura, sulle sue proprietà e sulla sua evoluzione. Se la missione New Horizons ha segnato una svolta rivoluzionaria, nei prossimi decenni è probabile che vengano lanciati numerosi progetti simili. Ciò significa che molto presto, probabilmente, scopriremo di più su questo emozionante oggetto spaziale. Ora che abbiamo concluso con questo episodio sulla Luna di Plutone, abbiamo anche concluso con la serie sui pianeti nani del Sistema Solare. Se volete saperne di più su altri oggetti del Sistema Solare, non esitate a farcelo sapere nei commenti e faremo del nostro meglio per parlarvene nei prossimi video. Spero vi sia piaciuto esplorare questi mondi conosciuti da poco, anche se si trovano così vicini nel Sistema Solare. Lascia un mi piace se ti è piaciuto il video, ricordatevi di iscrivervi e di attivare la campanella. Grazie per aver guardato, ci vediamo alla prossima qui su Spaziomatic.